L'amministrazione comunale di Franca Villa al Mare ha presentato oggi il portale che riguarda la riqualificazione di Palazzo Sirena, monumento artistico con decreto dei beni culturali e simbolo della città adriatica. I lavori verranno eseguiti grazie all'ottenimento di 925 mila euro per la giudicazione di un bando per la rigenerazione urbana. Franca Villa al Mare ha poi ottenuto altri 930 mila euro per la riqualificazione della piazza adiacente proprio Palazzo Sirena. Il progetto di cui abbiamo parlato durante la compagnia elettorale mi ero impegnata nei primi 100 giorni a presentarlo alla città, siamo qua con la presentazione del progetto e anche con l'annuncio dell'ottenimento del finanziamento per realizzare effettivamente questo progetto. Tutto questo sarà affiancato anche dalla riqualificazione e rigenerazione urbana del tratto che va dal porto alla zona sud di Franca Villa ma in particolare della piazza Sirena e del pontile. Io immagino che i progettisti che otterranno l'affidamento diciamo della progettazione dovranno colloquiare tra loro, immagino un laboratorio progettuale comune nel quale insomma colloquino tra loro per rivedere l'insieme di questa zona centrale di Franca Villa. Il progetto prevede solo la rifunzionalizzazione degli spazi, l'adeguamento, la creazione di due scale di sicurezza, di nuovi ascensori per raggiungere non solo gli spazi del teatro e dei camerini ma anche per riabilitare l'uso della terrazza all'ultimo piano sul mare. Allo stesso tempo prevede una grande terrazza che invece si rivolge alla collina, alla chiesa di Guaroni, alla città creando questa doppia sponda. In questo senso diciamo cambia pochissimo perché gli elementi sono veramente minimali quelli aggiunti ma cambia moltissimo nelle sue possibilità d'uso di fruizione anche all'interno del palcoscenico, all'abbattimento delle barriere eccetera e questa nuova terrazza che come un palcoscenico esterno sulla piazza per altre manifestazioni, spettacoli o semplicemente per allargare il foyer del teatro.